Colori, carri e centinaia di dolci mascherine in passeggiata. È stata questa la risposta del Carnevale di Varignano al maltempo che ha colpito l'Alto Garda nella prima domenica di Quaresima. La tradizione secolare messa a punto per il quarantesimo anno dal Comitato di Valorizzazione guidato da Graziano Parolari è stata l'unica manifestazione a non fermarsi di fronte alla pioggia e che ha annullato tutti gli altri festeggiamenti previsti nel Basso Sarca. Una delle più antiche e genuine tradizioni dell'Alto Garda che affonda le sue radici nel mondo arcaico e contadino quello ricco di spiritualità che invoca l'aiuto delle divinità per la pioggia, il sole e per un buon raccolto e annulla le colpe attraverso la purificazione del fuoco. Molti i partecipanti che hanno riempito le strade del paese presenti anche il sindaco di Arco, Alessandro Betta il vicepresidente della comunità Alto Garda e Ledro, Carlo Pederniana e il consigliere provinciale, Luca Giuliani. A mezzogiorno nel piazzale dell'ex casa Bresciani si è tenuta la tradizionale distribuzione di maccheroni al ragù uova sode, pessatine marinate, radicchio e vino nostrano. Poi è iniziata la sfilata che si è snodata lungo le vie del paese aperta dal corteo dei carnevali, i baldacchini piramidali fatti di cane di bambù e di alloro. Un percorso aglietato da musica e balli dei gruppi che il comitato è riuscito a coinvolgere anche quest'anno. I marziani a Varignam di Varignano, le galline de Ciaran di Chiarano, gli sboldri di Vignole, i dispersi di Oltresarca ed il casin di Tenno, il gruppo di Dro e quello storico di Varignano, guidato da Maurizio Tosi. All'imbrunire il gran finale, sul dosso della tierra, il prato che sovrasta Varignano, tra musica, balli e la distribuzione di dolci, grostoi e vin brulè, che è proseguita fino a tarda ora, si è tenuta la solenne bruciatura dei carnevali in un rogo spettacolare che ha chiuso i festeggiamenti, dando simbolicamente il là alla quaresima.